allora benvenuti giovani a questa nuova puntata di sistemi operativi aspettiamo che vi connettiate e diamo il via alla lezione 4, 10, 18, 20, a correre numerosi è gratis mi si sente? mi si dovrebbe sentire ok, allora nella puntata di oggi di sistemi operativi parleremo di CPU scheduling ok? le slide le trovate sul repository quello che... gli esercizi che vi ho proposto li vediamo martedì ci sarà la Prode Barbara che vi illustrerà le soluzioni agli esercizi e oggi facciamo una lezione un pochino più teorica che ci guiderà, come vi ho detto, alla seconda parte del corso quasi massa critica, esattamente mi scuso in anticipo ma con un monitor solo non riesco a controllare la chat in maniera pedissequa di conseguenza di tanto in tanto campionerò la chat se mi fate delle domande aspettatevi una latenza ulteriore rispetto a quella di... quella consueta di YouTube bene, quindi detto questo, si parte puntata di oggi CPU scheduling allora, nell'introduzione del corso abbiamo descritto il sistema operativo come un gestore di risorse e una delle risorse che un sistema operativo deve gestire è chiaramente il tempo di CPU quindi, per fare ciò, ciò che un sistema operativo può scegliere è quale tra i processi attualmente in attesa della CPU deve essere servito quindi a chi dare la CPU e in questa puntata ci occupiamo proprio di questo e di analizzare diverse politiche per assegnare la CPU che avranno delle conseguenze sul comportamento dell'intero sistema operativo ora, come anticipato, perché c'ho sempre il prefetch della slide dopo come anticipato, qual è il compito di uno scheduler di CPU? è di scegliere tra i processi che sono nella coda di reti o nelle code di reti, come vedremo nel seguito chi è che si accaparra la grande risorsa che è la CPU quindi è un modulo che prende in input la coda di reti ed eventualmente altre informazioni e in output ti restituisce uno dei processi della coda di reti che è il prossimo che deve essere eseguito ok? quindi questo è l'interfaccia di un CPU scheduler eventualmente non prende solamente la coda di reti prende l'insieme di processi che sono pronti ad avere la CPU che si trovano tutti nella coda di reti ma poi sarà il suo compito organizzarli eventualmente in strutture dati più sofisticate la prima domanda che mi chiedo è quando è che viene invocato lo scheduler di CPU? beh, questo dipende dal sistema operativo su cui gira però ci sono delle situazioni in cui sicuramente viene invocato allora, viene invocato quando un processo che è in running richiede una IO quindi quando un processo che è in running richiede una IO viene messo tipicamente nella coda di waiting e di conseguenza un nuovo processo deve essere selezionato per accapararsi la CPU un altro contesto in cui viene invocato il CPU scheduler è quando un processo termina quindi quando fa la exit ok? notate che il caso 1 perché? perché in quel caso non ho più un running devo sceglierne un altro quindi notate che il caso 1 e il caso 2 sono implicitamente selezionati dall'ocorrere di una system call poi ci sono altre circostanze in cui un CPU scheduler viene invocato e è per esempio quando un processo non decide di entrare di entrare nella coda di waiting quindi di rilasciare la CPU di sua sponte ma perché magari qualche altra entità per esempio un meccanismo di preemption prende questo processo e dice al sistema operativo guarda, è passato del tempo è ora che fai qualcosa perché c'è quel processaccio all'abrutto cattivo che sta in running che mi sta mangiando tutta la CPU quindi nel caso 3 quando viene invocato il diciamo un dispatto viene invocato una timer interrupt che scatenerà un meccanismo di preemption se presente quindi attraverso interrupt un altro caso in cui il sistema operativo lo scheduler viene chiamato è quando un processo quando il sistema operativo per conto di un processo termina una IO quindi facciamo finta che un processo sia in esecuzione che questo processo a un certo punto della sua vita ha richiesto una IO che ci mette 5 minuti questo processo un bravo sistema operativo lo prende lo mette subito nella coda di waiting intanto il driver del disco chi che sia farà la IO a un certo punto questa IO dopo 5 minuti terminerà quando termina la IO beh qualcosa deve succedere il sistema operativo sicuramente viene notificato attraverso un'interruzione che quella IO sia interrotto e questo è un altro entry point in cui potremmo invocare il CPU scheduler magari potremmo essere così magnanimi il nostro CPU scheduler potrà essere così magnanimo da riesumare il processo che ha aspettato tanto per il suo IO e metterlo subito in rango distinghiamo quindi dei meccanismi in cui che comportano l'invocazione del CPU scheduler sempre quindi per tutti i sistemi operativi che sono i processi il caso 1 e il caso 2 quindi quando richiedo un IO e quando termino da sistemi operativi che sono in grado di buttare fuori dalla CPU un task che è correntemente in esecuzione e che comunque non ha fatto alcuna richiesta di IO che sono i sistemi operativi preemptive quello che avete visto con il meccanismo diciamo dei contest switch di disastro era un meccanismo di prelazione ok vediamo se ci sono domande no se fa così se clicca se fa esc ok quasi no non ci sono domande quindi andiamo avanti in generale il problema dell'allocazione della CPU si pone solamente in sistemi operativi che supportano più programmi attualmente presenti in memoria e quindi nei sistemi operativi multiprogrammati praticamente tutti al giorno d'oggi vi faccio presente che un sistema operativo multiprogrammato non è un sistema operativo in time sharing un sistema operativo multiprogrammato può essere anche uno di quei sistemi degli anni 60 o 70 in cui i task venivano eseguiti in batch non c'era interazione ma quando un task richiedeva una IO veniva buttato fuori dalla CPU in favore di un altro quello è un sistema operativo multiprogrammato perché più programmi sono attualmente presenti in memoria e operano semplicemente che questi programmi questi sistemi operativi non sono preemptive nel senso che se un processo ha la CPU e sta facendo il suo mestiere non c'è modo che venga buttato fuori dalla CPU se non richiedere una IO o una terminazione mentre in un sistema operativo preemptive quindi con time sharing questo questo meccanismo di eviction può accadere anche semplicemente sulla base del tempo che lui trascorre utilizzando la CPU il motivo dell'invenzione della costruzione di tutto questo meccanismo di scheduling era come sempre quello di ottimizzare le risorse di un sistema che è costato tanti soldi e quindi quando nei primi computer che costavano tanto si voleva ammortizzare l'investimento il gioco era quello di vendere l'uso di questa unità a più persone e per venderla a più persone bisognava fare in modo che non ci fossero tempi morti e di conseguenza la prima idea il primo embrione di sistemi multiprogrammati si sono avuti in questo caso in cui ci si è accorto che gran parte del tempo lo si spendeva a leggere e scrivere su disco allora era molto utile caricare più programmi in memoria in maniera tale che quando tutti i programmi fino a quel momento erano impiegati a leggere e scrivere su disco qualcun altro potesse essere eseguito e la CPU affittata ad un altro utente e qui vi ho parlato mentre negli anni successivi quando l'interactive computing quindi quello con l'utente quello di oggi si è venuto affermando diverse caratteristiche del sistema hanno iniziato ad essere importanti quali il tempo di risposta quindi il tempo di reazione della vostra macchina e di conseguenza si è pensato che se anche la CPU stava felicemente eseguendo un processo per esempio il compilatore tu digitavi un tasto non è che dovevi aspettare la fine della compilazione al fine di vedere l'effetto della pressione di questo tasto e questo ha dato luogo agli scheduler preemptive la differenza tra i due è che nei non preemptive un processo non è mai cacciato dalla CPU se non richiede una IO o non termina nei scheduler preemptive un processo che è in running e che non fa niente oltre a eseguire delle istruzioni di CPU può essere cacciato diciamo sulla base di eventi esterni che non dipendono dal processo stesso classic particolari di questi eventi cioè la cosa più classica è quella che questo processo abbia terminato il suo quanto di CPU ovvero anche che accada qualche cosa a livello di sistema per esempio il termine di un'operazione di IO o quant'altro che comporti la generazione di nuove priorità all'interno del sistema questo è lo scheduler lo scheduler è quel programma quel pezzo di programma quella funzione che viene invocata in queste situazioni qua quindi queste quattro e che deve decidere a quale dei nuovi dei processi in attesa solamente della risorsa di CPU assegnare tale risorsa e lo scheduler va di pari passo con un altro modulo che viene chiamato il dispatcher il dispatcher è quel pezzo di software che abbiamo già visto nel contesto di contest switch che è quel pezzo di programma che è responsabile di entrare in modalità kernel di salvare lo stato del processo corrente ed entrare in modalità kernel ovvero di uscire dalla modalità kernel ripristinando lo stato del processo di uno dei processi precedentemente interrotti ci tengo a precisare che ogni volta che viene cambiato processo c'è una perdita di prestazioni tale perdita di prestazioni è derivata in parte veramente minima dal salvare e ripristinare lo stato della CPU ma in parte significativa dal fatto che quando si cambia processo tutte le cache la memoria che vedremo diciamo nel seguito però è una memoria abbastanza efficiente che è all'interno della CPU e che è deputata a tenere una copia della memoria fisica esterna beh quando cambio processo presumibilmente cambiano anche le variabili a cui sto accedendo cambia la footprint di memoria cambiano tantissime cose quando cambio processo e il contenuto della cache che fino al momento precedente era valido diventa invalido e questo tipicamente comporta una significativa perdita di prestazioni almeno fino a quando la cache non si è riempita di nuovo ok quindi ogni volta che si cambia processo specialmente nelle architetture correnti c'è un prezzo da pagare che è il prezzo di svuotamento e riempimento della cache ovviamente se io faccio un content switch e il kernel fa poca roba e poi dopo rientro nello stesso processo questo costo sarà mitigato ma comunque ci sarà perché comunque passo ad eseguire altre routine ma sarà minore che se cambio processo ora per analizzare il il meccanismo o per analizzare delle delle politiche attraverso cui posso scegliere il prossimo processo in esecuzione ovvero per analizzare delle politiche di cpu scheduling quello che devo fare da bravo ingegnere è quello di definire un modello astratto che mi descriva un problema l'astrazione è un concetto che avrete avrete già incontrato nel corso del del corso di probabilità del corso di ingegneria informatica in generale che è il pensare a un problema non solamente a una singola istanza del problema ma pensare a più quella è la generalizzazione pensare al minimo insieme di variabili che mi permette di caratterizzare in maniera completa un sistema al fine della sua analisi quindi se io voglio rappresentare le informazioni minime per descrivere il comportamento di un cpu scheduler io dovrò metterci dentro a questa descrizione solamente le variabili rilevanti per questo cpu scheduler e quali sono queste variabili rilevanti dal punto di vista di un processo ebbene sono la sequenza delle la durata dei cpu burst e degli io burst di questo processo cioè a me ai fini di modellare di vedere come si comporta uno scheduler non interessa sapere quali istruzioni un programma esegue mi interessa solamente sapere quanto tempo ci metterà ad eseguire quel insieme di istruzioni prima di fare una richiesta di io ed eventualmente per la richiesta di io mi interesserà sapere quanto durerà questa richiesta di io ma non mi interessa sapere quale particolare richiesta di io farà ok e dice la prima domanda che uno si fa quando pensa alle generalizzazioni è questo mi basta per caratterizzare per definire un cpu scheduler beh la risposta è se io sapessi quali istruzioni la cpu esegue potrei caratterizzare meglio uno scheduler beh la risposta è no perché perché a me quello che mi serve per capire quale cpu cioè per capire quale processo deve essere eseguito ciò che mi serve per capire quale processo verrà eseguito è semplicemente la le sue caratteristiche macroscopiche non mi interessa sapere cosa fa ugualmente se io so che a fare quella io assumiamo che io abbia un solo disco ci mette 50 millisecondi beh io potrò utilizzare questa informazione per decidere quale delle altri quali degli altri thread gli altri processi in esecuzione può in redi potrà essere eseguito sulla base magari del fatto che quello lì ci metterà 50 millisecondi ma per fare questa scelta non con la mente mi serve solamente sapere quanto tempo eventualmente di cpu questi processi useranno non mi serve sapere che cosa faranno con la mia cpu in quel contesto quindi il minimo che mi serve per caratterizzare il processo un processo per descrivere un il minimo il massimo tutto quello che mi serve è la sequenza di cpu burst di io burst un cpu burst è niente altro che la durata del tempo o il numero di istruzioni che un processo esegue prima di fare una richiesta di io e un io burst è quanto tempo ci metterà una determinata chiamata al disco o alla tastiera ad essere evasa quindi ad essere servita ovviamente per quello che riguarda gli io sono entrambi difficilmente predicibili perché il cpu burst può dipendere dallo stato del processo e quant'altro l'io burst ancora meno perché pensate che un io burst può essere addirittura la lettura di un tasto tu che ne sai quando l'utente premerà un tasto tu quando fai una lettura da tastiera quello che stai facendo è accedere alla periferica tastiera e ti metti lì in attesa e vai a dormire fino a quando l'utente non preme un tasto che ne sai quando l'utente prenderà un tasto premerà un tasto potrai però comunque caratterizzarlo statisticamente comunque la sostanza è che per rappresentare un processo ai fini della valutazione di uno scheduler io tutto quello che devo avere è la sua sequenza di cpu burst più uno c'ha un cpu burst dei x millisecondi poi c'ha un ioburst dei 20 millisecondi poi un altro cpu burst di un millisecondo e via discorretto in funzione della distribuzione del di questi burst io posso decidere posso definire anche grossolanamente di che tipo di processo sto analizzando un processo tipo una compilazione tipicamente un processo che è cpu bounded perché la cpu fa molte cose per analizzare il codice per fare chi ti pare quindi a fronte del tempo iniziale che il sistema ci mette nel leggere i file da disco che è relativamente rapido una volta che lui ha fatto questo beh il compilatore specialmente l'ottimizzatore ci mette un bel po' di tempo a decidere come tradurre le istruzioni in cio e cppu in linguaggio macchina e a come farlo in maniera efficiente quindi quello lì sarà un processo che è caratterizzato che è un processo cpu bound al contrario un processo che cpu bound vuol dire che il limite che se io compro una cpu più potente la compilazione ci mette di meno ok quindi che è il bottleneck il collo di bottiglia è la cpu di contrasto un processo io burst può essere per esempio un che ne so un programma che masterizza i cd una volta non ci stanno più però una volta c'erano i programmi che masterizzavano i cd beh in quel caso tu quando fai partire una masterizzazione se ti compri un cd più veloce il tuo il tuo processo di di masterizzare un cd ci mette di meno e quindi il bottleneck è il è il è la io ok la distribuzione dei burst di cpu è quindi quanto tempo di fila io uso la cpu è caratterizzante per un tipo di processo di conseguenza quando voglio descrivere statisticamente un tipo di processo quello che posso fare è analizzare la distribuzione di cpu burst cosa vuol dire analizzare la distribuzione beh immaginiamo di avere un processo un compilatore un editor chi vi pare di costruire un histogramma un histogramma in cui sull'asse delle ascisse io metto la durata dei cpu burst quindi abbiamo già definito un cpu burst come la durata dell'intervallo in cui un processo usa la cpu senza fare alcuna richiesta di io è una sequenza di istruzioni banalmente è la sequenza di istruzioni tra due system call in generale perché si assume che le system call spesso facciano la maggior parte facciano io tra due system call che fanno io e siccome io sono il sistema operativo io so quando un processo invoca una system call e quindi so calcolare il cpu burst perché dico l'ho mandato in esecuzione e adesso faccio partire l'orologio aspetto che lui mi invochi la prossima system call quando mi invoca la prossima system call vedo quando l'ho fatto partire vedo che ora è ovvero vedo quanto tempo gli ho dato e quindi io posso calcolare quanto tempo ci ha messo e questo qui è la durata di un intervallo ora se tu costruisci una statistica sugli intervalli quindi cominci a contare quante volte il mio processo ci ha messo ha avuto un cpu burst di 8 millisecondi quante volte ha avuto un cpu burst di 16 millisecondi di 24 di 32 e così via quindi calcoli quante volte ha avuto un cpu burst di una certa durata beh se fai questo riesci ad avere quello che ottieni è un histogramma quello che vediamo qua è un histogramma di un processo che ha la grande sta grande maggioranza di cpu burst della durata di 2 millisecondi e mezzo 3 millisecondi sarà una cosa del genere che stanno qua poi c'è qualcuno lo fa a 4 millisecondi pochi ne fa 8 pochi ne fa 16 pochi ne fa 24 pochi ne fa 32 e via discorrendo ok quindi questo qui è un processo che ha la maggioranza dei suoi cpu burst della durata di questa durata qua quindi la distribuzione di cpu burst di un processo è ciò che ne caratterizza dal punto di vista della cpu il comportamento a tempo di esecuzione chiaro questo? quindi dato un processo lo posso caratterizzare in maniera operativa guardando la sequenza di cpu burst e iobars quindi è una lista cpu burst tot iobars tot cpu burst tot iobars tot oppure in termini statistici a partire da questa lista io posso tranquillamente calcolare questo histogramma ok che ne rappresenta in termini statistici il comportamento vediamo se ci sono domande no ok non ci sono domande bene quindi ricapitolando abbiamo definito cos'è un cpu scaler abbiamo definito cos'è un dispatcher che è quel abbiamo capito che buttare fuori e mettere dentro la cpu dei processi se non c'è bisogno è costoso perché ci invalida le cache quindi ci rallenta tutto quanto cose che scopriremo quando faremo la gestione della memoria abbiamo capito come caratterizzare un processo ed abbiamo capito come caratterizzarlo in termini diciamo descrittivi quindi monitorandone il comportamento e abbiamo capito come una volta che io ho questo comportamento sbobbinato in un file o in una struttura dati posso calcolarne le statistiche ok ora a questo punto devo fare il venditore di scheduler anzi prima di fare il venditore voglio fare il compratore di scheduler quindi cpu scheduler devo dirvi che la scelta di quale processo assegnare alla cpu specialmente se avete una cpu sola è abbastanza rilevante cioè immaginiamo che voi abbiate il vostro bel computer linux o che sia e lanciate una compilazione se la cpu se e che il sistema sia un sistema con un grosso un sistema con time sharing quindi con prelazione della cpu ma con un quanto di cpu molto grande quando voi lanciate una compilazione può succedere che quando il vostro sistema operativo dà la cpu al compilatore magari gli rimane la cpu per 100 200 millisecondi in quei 200 millisecondi se voi premete un tasto non succede niente e quindi avete tutta quanto un'impressione di gommosità del sistema vi dico anche in anticipo che se fate così presumibilmente la compilazione in totale ci mette meno però voi non potete usare la macchina in quel tempo quindi la scelta di quale scheduler usare ha un forte impatto sulla vostra esperienza quando utilizzate un sistema e questo è un esempio volendo fare il compratore di cpu scheduler quello che faccio da bravo ingegnere è di definire delle metriche degli indicatori che mi permettano di stabilire quali sono le qualità di un cpu scheduler a seconda delle secondo vari assi allora il primo asse è l'asse di colui che ha investito dei soldi nella macchina ora quando io parlo di queste cose voi pensate anche che la macchina potrebbero essere 500 computer in una cloud per cui qualcuno ha pagato dei soldi con l'obiettivo di venderne il tempo di cpu di venderne la computazione bene l'investitore è interessato nel fatto che tutte le risorse per cui lui ha investito i soldi siano usate al meglio quindi è interessato nel fatto che tutte le cpu di questa cloud siano utilizzate il più possibile perché più vengono utilizzate più lui riesce a farci i soldi ok perché ci ha investito cosa giusta no di conseguenza la prima metrica che ci viene in mente è è l'uso di cpu quindi se io ho il mio sistema cloud o il mio computer io quello che vorrei fare è che la maggior parte del tempo di cpu a disposizione sia usato da chi paga e chi è che paga pagano i processi mi spiego meglio potrei avere un sistema che è molto bello ma che è afflitto da una incredibile burocrazia e quindi nel momento in cui lui deve dare la cpu ad un altro processo c'è delle routine di sistema operativo che ci mettono un sacco di tempo per operare queste decisioni ok ah che cosa succede il tempo di sistema operativo non è un tempo che io mi posso vendere e se non me lo posso vendere io non posso lucrarci quindi abbasserò l'uso di cpu ok quindi questo è il primo caso quindi una prima metrica è l'uso di cpu un altro modo in cui io potrei avere un pessimo uso di cpu è il caso in cui per esempio ho dei processi che sono pronti ad eseguire la cpu che sono in redi ma io non gli do la cpu in quel momento perché magari c'è qualche altro processo che ha eseguito una io e io siccome quel processo la aveva non so era raccomandato io ho sospeso tutto perché nel caso tante volte finisse la io io voglio subito dargli la cpu quindi la prima metrica è l'uso della cpu io devo avere il minor tempo possibile speso nel sistema operativo o nelle routine perché voglio fare sì che la cpu sia usata al massimo dai programmi del mio sistema ok e posso fare del male semplicemente non dando delle risorse che sono disponibili alle a delle a dei programmi che le richiedono e che e che sono pronti a riceverle ok come si può pessimizzare l'uso di cpu quindi un sistema operativo brutto che ci mette un sacco di tempo a fare i suoi system call pessimizza l'uso di cpu un'altra oppure uno scheduler che magari sceglie male e magari sceglie come come processo di di redi un altro processo che magari farà un burst troppo piccolo e quindi avrà subito un altro content switch nella cpu utilizzare nell'uso di cpu dovete anche considerare le le latenze di dispatching perché anche le latenze di dispatching e di scheduling sono un prezzo da pagare da parte del sistema operativo quindi se voglio avere un sistema operativo che è una macchina che è estremamente reattiva potrei decidere di metterci uno scheduler che è preemptive con un tempo di quanto estremamente piccolo in questo modo io avrò la sensazione di avere tanti processi che fluidamente procedono tutti assieme però in questo caso quello che avrò è che la latenza di dispatch siccome sto sempre a cambiare processo sarà dominante e quindi poiché la latenza di dispatch fa parte del sistema operativo io utilizzerò una parte minore di questo tempo per effettivamente eseguire i processi ok un'altra metrica che mi interessa diciamo per valutare uno scheduler è il tempo di turnaround cioè nel momento in cui ti do un processo quanto tempo ci metti a finirlo nel momento in cui lancio una compilazione quanto tempo ci mette sta compilazione ovviamente questo dipende da quante altre compilazioni quanti altri processi il sistema esegue in quel momento però da un punto di vista statistico io potrei pensare che ho un certo numero di processi che sono correntemente in esecuzione con certe caratteristiche quanto ci mettono in media ad essere completati un'altra metrica che è diversa dal tempo di turnaround perché il turnaround è un tempo è il throughput quindi vedendo la mia macchina come un sistema abbezzo e quindi come una catena di montaggio quanti sono i processi che riesco a terminare nell'unità di tempo ok e anche questa è una metrica e vedremo che tutte queste metriche sono affected sono sì affected sono influenzate dalla scelta di quale processo è in esecuzione altre metriche che sono rilevanti specialmente nei sistemi operativi diciamo interattivi ai quali siete abituati sono il tempo d'attesa ovvero se io ho dieci processi che sono nella coda di ready quanto tempo deve aspettare un processo per essere eseguito cioè quindi un processo che è pronto a ricevere la cpu quanto tempo deve aspettare prima di effettivamente avere la cpu e questo tempo qui è definito come tempo di waiting l'ultimo tempo che è l'ultima metrica che ci interessa caratterizzare è il tempo di risposta che è diverso dal waiting time perché per pensare al tempo di risposta pensate all'editor un sistema che è caratterizzato da un basso tempo di risposta è caratterizzato da un'alta reattività quando muovete il mouse vedete che il mouse si muove rapidamente come facciamo a misurarlo da un punto di vista di processi questo tempo di risposta che cosa fa un sistema oppure quando premete un tasto cosa fa un sistema un processo nel momento in cui si mette in attesa della lettura di un tasto farà una richiesta di IO quindi quello lì è il tempo t0 ora quando è che io vedo la risposta alla pressione del tasto da parte di questo programma la vedo quando questo programma scriverà paradossalmente sul mio terminale una lettera in corrispondenza della pressione di quel tasto quindi io passo da una richiesta di IO alla richiesta successiva di IO quindi questa cosa qui è il tempo di risposta che è misurata come il tempo che intercorre tra quando un processo termina una richiesta di IO ovvero riceve un comando a quando esegue la prossima richiesta di IO per scrivere la risposta ovviamente questo è anche funzione del processo quindi queste sono delle metriche è chiaro che queste metriche dipendono dal tipo di processi che avete nella vostra cpu però comunque sono delle metriche che sono influenzate dalla scelta del cpu scheduler quindi che in ultima analisi è quel pezzo di programma che sceglie qual è il prossimo processo in esecuzione ok ovviamente alcune di queste metriche qua c'è un flip perché il throughput è andato su e il turnaround è andato giù dato un sistema alcune di queste metriche io le voglio massimizzare e altre metriche le voglio minimizzare che cosa che voglio massimizzare beh sicuramente voglio massimizzare l'uso di cpu e il numero di processi in unità di tempo e sicuramente voglio minimizzare il turnaround time il waiting time e il response time ok bene intanto questa slide vi dice come calcolarle ok ora come facciamo ci sono tanti esercizi e presumo che la prossima volta ne vedrete diversi con esempi di scheduler cioè come facciamo a a illustrare il comportamento di uno scheduler lo facciamo con un diagramma di Kant un diagramma che contiene il tempo sull'asse delle x contiene una riga per cpu core assumiamo di averne uno solo però se ne abbiamo più di uno dovremmo avere una riga per cpu core e una riga per risorsa di io poi durante la simulazione di un di una run di un insieme di processi quello che facciamo è semplicemente colorare per un dato tempo la risorsa che viene in quel momento utilizzata da un certo processo faccio un esempio se io ho tre processi in esecuzione li eseguo in round robin quindi uno dietro l'altro con un certo quarto quanto di tempo quello che vedrò sarà una barra con tre righe ripeto ne vedremo molti esempi nel seguito una barra con tre righe una per ogni processo assumendo di avere una sola cpu quello che vedrò è che durante il primo quanto verrà eseguito il primo processo e quindi colorerò la prima barra rappresentante la cpu di un certo colore poi quando scade il quanto bene passa al secondo processo e quindi incomincio a colorare la seconda parte del diagramma poi passa al terzo processo passo a colorare la terza parte del diagramma e poi ricomincio da sopra ok normalmente ugualmente se il processo più o meno a un certo punto esegue un IO bene andrò a colorare la barra dell'IO corrispondente per il numero di cicli necessari al completamento di questo IO questa è una descrizione diciamo abbastanza astratta ne vedremo degli esempi dopo l'importante è farvi vedere un pochino il comportamento e adesso passiamo cioè farvi intuire più o meno quello che c'è dietro adesso passiamo ad analizzare diverse famiglie di scheduler la prima famiglia che consideremo la prima classe di scheduler ancora una volta seguiamo una prospettiva storica è uno scheduler non preemptive utilizzato nei primi computer scheduler non preemptive vuol dire che io non ho alcuna nozione di quanto di CPU e che l'unico modo che ha un processo in running per essere buttato fuori dalla CPU è o terminare o eseguire una IO ok l'FCFS fondamentalmente prende tutti i processi che avete a disposizione nello vostro programma e li mette dentro una coda first come first serve ok e l'idea è quella è la coda di redi diciamo è una coda che però è anche la coda di redi e l'idea è che ogni volta che un processo esegue una IO il processo in running esegue una IO perché gli altri non lo puoi sapere se eseguono una IO o meno perché stanno dormendo tu prendi questo processo in running e lo sbatti in fondo alla coda ok e come e come scegli il prossimo processo da eseguire ebbene scegli come prossimo processo da eseguire il processo affiorante il primo processo della coda quello lì lo prendi lo metti in running e e quindi lo togli dalla coda e e fai ripartire la baracca ora questo qui è un esempio in cui abbiamo un processo P1 P2 P3 abbiamo il processo P1 che esegue un burst un cpu burst di 24 unità e arriva al tempo 0 poi abbiamo un processo P2 che esegue un cpu burst di 3 unità e arriva al tempo 1 poi abbiamo un processo P3 che esegue un burst di 3 unità ed arriva al tempo 2 non ci sono IO in questo caso facciamo finta che tutti i processi quando eseguono il loro burst e poi terminano data questa sequenza di processi vogliamo per esempio calcolare il il tempo d'attesa per P1 bene P1 è il primo che si presenta quindi è il processo al tempo 0 quindi lui sarà in esecuzione dal tempo 0 al tempo 24 poi a un certo punto al tempo 1 arriva il processo P2 quindi P2 arriva qua ma siccome P1 è in esecuzione P2 va a fine in coda e viene eseguito in questo intervallo di tempo a 3 unità quindi da 24 a 27 poi a un certo punto mi arriva finalmente mi arriva il processo P3 quando è che mi arriva mi arriva al tempo 2 quindi arriverà più o meno qua ma siccome P1 stava ancora in esecuzione prima di luce a P2 io P3 lo andrò a eseguire in questo periodo qua ora data questa sequenza di processi quindi questa è una simulazione di quello che accade nella CPU quando io eseguo questi tre processi posso misurare il tempo d'attesa allora il tempo d'attesa è misurato come il tempo che un processo trascorre nella coda di redi quanto tempo trascorre nella coda di redi P1? 0 perché P1 è immediatamente eseguito quanto tempo trascorre nella coda di redi P2? beh P2 si presenta al tempo 1 ma viene eseguito al tempo 24 quindi trascorre nella coda di redi 23 unità quanto tempo trascorre nella coda di redi P3? beh viene eseguito al tempo 27 ma si presenta al tempo 2 e quindi lui aspetta 25 pertiche dentro alla coda di redi detto questo c'è il tempo d'attesa per P1 per P2 per P3 posso fare una cosa complicatissima che è la media facendo la media ottengo 16 facendo questa media ottengo 16 non lo so 23 più 25 diviso 3 ok? e questo è il tempo sì 48 diviso 3 questo è il tempo medio di attesa dei processi con la strategia FCFS ok? potremmo fare qualcosa di meglio per minimizzare il tempo d'attesa per ridurre il tempo d'attesa ma che ne so intanto vediamo se la situazione cambia cambierebbe nel caso in cui i processi si presentassero con un ordine diverso vediamo che cosa succede se i processi si presentano in quest'ordine prima arriva P2 al tempo i tempi a cui si presentano non cambiano però ovvero sì cambiano i tempi a cui si presentano i processi prima arriva tutti i processi partano al tempo 0 però prima arriva a P2 poi arriva a P3 prima viene incodato P2 poi viene incodato P3 poi viene incodato P1 quindi io avrò che P2 viene eseguito dal tempo 0 al tempo 3 al tempo 3 parte P3 che però stava aspettando per 3 unità quindi ci avrà un waiting time al tempo 6 finalmente viene eseguito P1 che però stava aspettando per 6 unità e quindi viene eseguito al tempo 6 quindi il waiting time di P2 sarà 0 di P3 sarà 3 e di P1 sarà 6 quanto è il tempo medio d'attesa? 6 più 0 più 3 diviso 3 che fa 3 quindi le cose in termini di tempo d'attesa medio sono andate molto meglio questo comportamento però non è possibile garantirlo con l'FCFS perché il first come first served garantisce mette in coda i processi in funzione del loro tempo d'arrivo di conseguenza io non è che posso scegliere di mettere davanti i processi che ci mettono di meno perché mettendo i processi che ci mettono di meno migliorerò il tempo d'attesa non lo posso fare perché non fa parte delle politiche dell'FCFS che li mette in coda questo comportamento però evidenzia l'effetto convoglio che ha l'FCFS che dei processi corti dietro a un processo lungo come in questo caso devono aspettare un sacco di tempo peggiorando nella coda peggiorando il tempo d'attesa medio del sistema ok questo ci fa pensare che forse conviene la strategia migliore per minimizzare il tempo d'attesa assumendo che non ci sia eviction non ci sia preemption né niente sia quella di scegliere come ordinare la coda dello scheduler in maniera tale da mettere prima da eseguire prima i processi che pensiamo ci mettano di meno che pensiamo abbiano un CPU burst più corto ok e questa è un'ottima strategia in linea di massima specialmente quando fate degli esami perché la miglior strategia per superare un esame con dei voti più alti che al contrario a parità di sforzo è quella di leggere tutto il testo dell'esame all'inizio selezionare gli esercizi più semplici quindi per i quali ci si mette meno tempo e incominciare a svolgere quegli esercizi prima in questo modo l'esercizio difficile che magari vale quanto quelli facili lo mettete in fondo e anche se ne fate metà va bene uguale ma è meglio che se fate solo l'esercizio difficile e poi vi lasciate in fondo i tre esercizi facili e quindi prendete alla fine meno punti perché avete fatto meno esercizi complessivamente quindi avete anche abbassato il throughput in questo senso ok qual è lo schedule quindi la politica migliore già abbiamo intuito che è short e job first fare prima i lavori i task che hanno un CPU burst più corto consideriamo anche una cosa che i programmi tipicamente non è che sono dei monoliti dritti delle sequenze di istruzioni senza branch dei programmi hanno dei cicli e hanno dei comportamenti ciclici al loro interno immaginate che quando lanciate un editor beh questo editor dovrà ogni volta ciclerà sul dammi tasto per poi dimostrarvi le lettere e quant'altro ugualmente anche un compilatore un compilatore scandisce il vostro sorgente una riga alla volta quando è nella fase di parsing oppure quando è nella fase di generazione di ottimizzazione lo prende a blocchi ma tutta questa roba starà dentro una sorta di guai non esistono programmi o sono veramente pochi non so non mi vengono in mente dei programmi che fanno il monolita che scrivono una sequenza dritta di operazioni e delle volte queste operazioni al loro interno hanno dei cicli ok ma questi cicli comportano comportano che ci sarà una ricorrenza nel comportamento di cpu burst e ioburst di questo programma l'esempio classico è il compilatore fai conto che se legge una riga di sorgente alla volta beh lui farà una ioburst e poi un cpu burst non fanno così lo leggono a blocchi ma assumiamo che faccia così quelli di una volta forse lo facevano sonno quelli di una volta forse lo facevano perché c'era poca memoria quelli da adesso no se leggono un bel pezzettone ma comunque finito quel pezzettone devono passare al pezzettone successivo quindi i programmi hanno un comportamento ciclico ok di conseguenza avendo un comportamento ciclico tra un giro e l'altro esiste la possibilità che al giro successivo io mi comporti da un punto di vista della cpu in maniera simile a quanto fatto nel giro precedente è chiaro che l'approccio short at job first quindi l'approccio che sceglie come prossimo task da eseguire il task che avrà un cpu burst più corto è molto difficile da implementare ovvero si può implementare in determinati contesti in contesti hard real time dove tu offline misuri il tempo di esecuzione dei burst del tuo programma e quindi li sai predire però in un contesto classico questa cosa è difficile da fare quindi lo short at job first non si riesce a implementare perché non ce l'hai la palla di vetro non sai quando volta che hai messo un processo in cpu non sai effettivamente quanto sarà grosso il suo burst una cosa però che puoi fare è misurare il burst cpu burst precedente e dire che il burst successivo sarà uguale al burst precedente questo è il modo più semplice oppure potresti ecco mi sono dimenticato oppure potresti ecco qua ho swappato le slide mi dispiace ragazzi ho fatto una cosa nell'andare sulle slide vi ho fatto l'idea dello short at job first prima vabbè ho ordinato male le slide comunque immaginate già che l'approccio migliore è lo short at job first però lo short at job first ha lo short coming che voi non riuscite a predire il prossimo cpu burst di conseguenza un modo di farlo è quello di guardare al passato e dire che il passato sarà simile al futuro adesso scusatemi interrompiamo per un momento questo flusso di pensieri perché voglio cantare le loti dello short at job first ok lo short at job first è uno scheduler che segue e ho sbagliato ordinale slide è uno scheduler che segue l'fcfs quindi è uno scheduler non preemptive che come idea ha quella di selezionare il lavoro che in redi che ha il più corto cpu burst i pro è che massimizza il minimum average widening time il tempo d'attesa medio dei processi e che massimizza il throughput il contro è che non si può implementare perché tu non riesci a sapere quanto ci mette l'SJF quanto durerà il prossimo cpu burst della cpu e qua c'era l'implicazione di cui vi ho parlato prima fatelo utilizzate questa politica agli esami ora come vediamo un po' come si può comportare un SJF in un contesto di questo tipo noi abbiamo un processo P1 che arriva al tempo 6 un processo P2 che arriva al tempo 8 un processo P3 al tempo 7 e un processo P4 al tempo 3 cosa succede scusate questa è la durata dei burst tutti i processi arrivano al tempo 0 se tutti i processi arrivano al tempo 0 banalmente il primo a essere eseguito è quello con il burst più corto che è 3 quindi eseguo P4 da 0 a 3 poi dopo mi ritrovo a eseguire il meglio di questi qual è il meglio di questi è P1 eccolo qua P1 da 3 a 9 P2 poi quello successivo sarà P3 perché è quello col burst minore lo eseguo in questo intervallo di tempo e poi per ultimo eseguo P2 che ha il burst più lungo e poi posso calcolare l'average waiting time nel solito modo quindi sarà 0 per P4 3 per P1 9 per P3 e 16 per P2 e fa 7 ok nel caso in cui arrivi un processo ad un tempo diverso per esempio assumiamo che al tempo 2 arrivi un processo P al tempo 2 arrivi un processo P5 che ha un burst di durata 1 bene se al tempo 2 al tempo 2 no al tempo 1 arrivi un processo P5 che ha un burst di durata 1 che cosa succederebbe in questo caso? beh potrebbe succedere che niente perché questo qui è uno scheduler non preemptive quindi l'arrivo di processi non comporta la cessione della CPU a nessun altro scheduler se fosse uno scheduler preemptive short e job first nel momento in cui sto eseguendo P4 mi rendo conto che è arrivato un processo P5 che ha un quanto minore del quanto rimanente e potrei eseguirlo in questo intervallo potrei metterlo qua in mezzo perché è arrivato qualcun altro che ci mette di meno in questo modo migliorerei ancora il throughput però siccome ho detto che lo scheduler non è preemptive niente può cacciare dalla CPU il mio processo se non è lui o a terminare o ad eseguire una I.O. ora abbiamo cantato le loti dello short e job first però non ci siamo soffermati su questo aspetto che è quello di dire che per implementare uno short e job first che mi minimizza che mi massimizza che mi minimizza il waiting time e mi massimizza il throughput io devo vedere nel futuro siccome non posso vedere nel futuro quello che posso fare è guardare nel passato guardando nel passato mi rendo conto che i programmi sono ciclici e potrei predire il il prossimo CPU burst guardando il CPU burst precedente in base a questo operare una scelta quindi come posso farlo in maniera un po' più dolce beh fare delle scelte così brutali quindi dire il prossimo CPU burst è uguale al CPU burst precedente potrebbe essere una scelta tra virgolette subottima io vorrei cambiare opinione dolcemente facciamo un esempio immaginiamo che un compilatore che all'inizio deve eseguire tanti IO e poi deve fare tanta CPU no? all'inizio esegue tanti IO e quindi all'inizio io incomincerò predire questi CPU burst dicendo guarda i CPU burst sono molto corti perché questo qua mi sta leggendo un file da disco quindi sta eseguendo tanti IO burst quindi i CPU burst di conseguenza sono corti poi a un certo punto questo qua incomincerà a compilare incomincerà a fare il suo mestiere e io però in quel momento ho deciso che il compilatore visto che esegue pochi CPU burst sta davanti no? perché i CPU burst sono corti no? e quindi l'ho messo davanti a quel punto parte la compilazione badabam parte sta compilazione ma sta compilazione è grossa e quindi mi ritrovo che ho un lunghissimo CPU burst avanti perché l'avevo predetto male perché all'inizio ho fatto tanti IO e poi a un certo punto se metti a fare un CPU burst all'improvviso mi frega io gli ho dato un'alta priorità perché i CPU burst erano corti però mi ritrovo che mi fa l'effetto convoglio è chiaro che questo comportamento io vorrei avere un meccanismo che sia un po' dolce per transire dall'una all'altra di conseguenza invece di fare una media secca posso fare quello che vedete qua che altro non è che un filtro passa a basso quindi posso dire ok invece di dire che la media che il valore successivo è uguale al valore precedente quindi con BDT intendo dire la durata del burst al tempo precedente io posso dirti che la predizione del burst al tempo successivo è uguale a una media aritmetica con alfa che è un coefficiente di decadimento a una media aritmetica tra il burst al tempo precedente e il burst predetto al tempo precedente quindi che cosa succede se questo alfa è uguale a 1 tu mi stai dicendo guarda il burst precedente il burst successivo è uguale al burst precedente se questo alfa è uguale a 0 tu mi stai fondamentalmente dicendo non fidarti assolutamente della misura corrente ma convergi fidati solamente della tua predizione quindi ignora la tua misurazione mentre se io ci metto un valore che è intermedio tra alfa alfa va da 0 a 1 se ci metto un valore intermedio beh quello che avrò è un'evoluzione dolce del mio comportamento se avete fatto teoria dei sistemi questo qui è un è un lo modellate bene con la trasformata a z sarebbe 1 diviso 1 diviso z meno alfa z più alfa ok? è un sistema è un'evoluzione un'evoluzione esponenziale delle mie cose quindi b di t b cappello di t è la predizione b di t è la misura se predizione e misura sono la stessa cosa il risultato sarà uguale a entrambe se sono diverse tu convergerai fondamentalmente correggerai la predizione di un coefficiente che di un coefficiente pesato che è proporzionale alla differenza tra predizione e misura ok? fondamentalmente addolcisci la media è un filtro passo a basso ok? quindi questo è un modo che tu hai per predire in maniera dolce i cambiamenti della il comportamento del tuo cpu basta a fronte delle misure che riceverai ancora se lo vede vedere come un concetto di teoria dei segnali questo altro non è che è un filtro troppo passo a basso che fondamentalmente se hai degli spike di durata nella cpu oppure anche spike negativi di durata della cpu questo qui ti filtra le altre alte frequenze e ti regolarizza il comportamento in maniera tale che se hai un cambio di comportamento del tuo programma quindi che incominci ad eseguire più si più basta non ti adegui immediatamente magari facendo delle decisioni avventate ma lo segui dolcemente in maniera tale da filtrare eventuali spike eventuali picchi spuri ok bene adesso mi fermo un attimo voglio vedere se ci sono domande perché non le vedo no non ci sono domande quindi andiamo avanti abbiamo quindi visto lo short job first adesso siamo sempre nella famiglia degli scheduler non preemptive e vediamo il prossimo elemento il prossimo membro della famiglia degli scheduler indovinate un po' è uno scheduler a priorità qual è l'idea? è che a chi paga di più dai la possibilità di essere eseguito prima quindi ad ogni processo tu attacchi banalmente una priorità ok nello scheduler nel priority scheduler può succedere che tu ad un certo punto metta nel tuo sistema un processo che ha più alta priorità prima di un processo che ha priorità più bassa in questo caso a seconda di come viene implementato può succedere che se in esecuzione c'è un processo a priorità più bassa questo venga buttato fuori e venga inserito il processo a priorità più alta in running un esempio banalmente lo shorted job first o lo shorted job first approssimato che è quello che vi ho detto io è un è un esempio di scheduler a priorità dove la priorità è la priorità è l'inverso della durata del prossimo CPU burst perché tradizionalmente le priorità la priorità più alta è zero quindi le priorità si valutano in diciamo la priorità più bassa è zero la più alta è n cioè la più scusate la priorità più alta è zero la più alta è n quindi si valuta in un ordine inverso ok qual è il problema che può presentare uno scheduler con priorità banalmente è che se io ho un processo continuo a mettere dei processi ad alta priorità il processo a bassa priorità che sta in attesa non viene mai eseguito perché ne continuano ad arrivare continuano ad arrivare dei processi ad alta priorità che quindi con valori di priorità più basso che vengono che passano sempre prima una soluzione per evitare e quindi può si può incorrere in starvation quindi quando un processo che ha tutte le risorse tranne la CPU non viene mai eseguito perché ne arriva sempre qualche raccomandato fondamentalmente la soluzione per evitare la starvation è quella dell'aging quindi di aumentare la priorità dei processi che sono nella coda di redi al passare del tempo quindi mano a mano ogni tanto io farò una passeggiata nella coda di redi e abbasso quel numero che rappresenta la priorità di tutti i processi che stanno lì fino a quando non avranno una priorità più bassa del processo in esecuzione che anche se era raccomandato a un certo punto lo caccio ok un esempio di scheduler con priorità in questo caso con una sorta di preemption sulla priorità è dato da questa fantastica slide quindi questa è la storia ovviamente essendo uno scheduler con priorità ad ogni processo dobbiamo anche aggiungere il campo priorità abbiamo un ottimo processo P1 che ha un burst di 11 priorità 3 e arriva al tempo 0 P2 5 1 insomma li leggete quindi quello che succede è che al tempo 0 non c'è nessuno davanti a lui e quindi per forza P1 deve essere eseguito entra P1 P1 felice si fa il suo quanto di CPU però poi a un certo punto arriva il processo P2 il processo P2 è un gradasso perché ha priorità 1 che è maggiore della priorità 3 quindi che è più alta della priorità 3 di conseguenza P2 passa in esecuzione cacciando P1 e P2 passa in esecuzione nel frattempo al tempo 2 arriva a P3 il sistema come l'abbiamo illustrato controlla la priorità del nuovo processo che è arrivato che è 4 però 2 ha priorità maggiore e quindi 2 rimane dentro la CPU arriverà ugualmente il processo P4 in questa storia arriva al tempo 5 al tempo 5 però c'è ancora P2 che gira però P4 ha priorità 3 P2 ha priorità 1 P2 rimane in CPU alla fine P2 si sarà fatto tutti i suoi 5 quanti e io mi ritrovo nella situazione in cui devo scegliere qual è il prossimo processo da eseguire tra P1 P3 e P4 ricordiamoci che P1 ha già eseguito un quanto e qual è il prossimo da eseguire tra P1 P3 tra P1 P3 e P4 beh banalmente è P1 quindi riciccio P1 lo metto in CPU e siccome non si muove una foglia perché tutti i processi già sono arrivati io mi ritrovo che mi ritrovo che poi verrà eseguito P3 che è a priorità più alta cioè priorità 2 e l'ultimo a essere eseguito sarà P4 ok e questi qua sono più o meno tutti è l'evoluzione degli scheduler potremmo anche immaginare che anche un sistema operativo diciamo senza vera e propria come si dice prelazione può fare una cosa del genere perché tutto sommato possiamo immaginare che quando tu lanci un processo effettivamente stai facendo una system call e quindi stai entrando nel sistema operativo quello che quello che voglio dirvi è come potremo implementare un meccanismo di aging in un sistema operativo che non ha un meccanismo vero e proprio di timer e di preemption beh banalmente potremo implementare il meccanismo di aging ogni qual volta lo scheduler viene invocato perché ogni volta che lo scheduler viene invocato noi potremmo decidere di farci una passeggiata dentro ai processi che sono nella goda di redi e di decrementare il loro valore di priorità in questo modo anche se c'è un povero sfigato che rimane per giorni in redi ogni volta che io butto via un processo ogni volta che passa qualcuno in running il suo valore di priorità verrà decrementato fino a quando non sarà così basso quindi quel numero non sarà così basso quindi la sua priorità non sarà così alta tale per cui possa essere eseguito ok bene quindi andiamo avanti e quindi questo fondamentalmente conclude la nostra carrellata sugli scheduler non preemptive e quindi adesso parliamo di scheduler preemptive che sono tutti quelli che non sono preemptive quindi sono degli scheduler tali per cui la CPU può essere il sistema operativo può sottrarre la CPU ad un processo anche se il processo non è affatto richiesta eseguendo un I.O. l'idea è quello che che ogni processo riceve una piccola piccola ragionevolmente una piccola ma non troppo piccola quantità di tempo detto il quanto di CPU di solito va dai 10 ai 100 millisecondi durante il quale può usare la CPU se alla fine di questo quanto il processo ancora sta usando la CPU bene viene preso viene tolto dallo stato di running e viene messo nell'area di Q a meno che non sia l'unico processo che è attualmente in esecuzione ok perché se è l'unico processo che è in esecuzione io me ne accorgo subito perché la quota di reati è vuota entro nella routine di scheduler e esco subito perché evito anche di lordare le cache se il processo se il processo che è in in esecuzione viene messo alla fine della quota di reati allora abbiamo il famoso scheda schema round robin in cui il processo viene tolto dalla CPU perché ha finito il suo quanto e viene messo in coda alla 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 reati Q viene messo in fondo alla reati Q quindi uno schema preempti viene invocato in un caso in più chiaramente quando il processo termina quando ci sono delle richieste di I.O. ma anche quando arriva un'interruzione del timer perché quando arriva un'interruzione del timer vuol dire che dovrò controllare se è scaduto il quanto di CPU quello che so è che se ho n processi nella reati Q posso immediatamente stabilire un 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 limite per il per il tempo d'attesa ricordiamoci che il tempo d'attesa è il tempo che un processo passa nella quota di reati senza essere eseguito se ho n processi nella reati Q automaticamente il tempo d'attesa mi si riduce perché nel peggiore dei casi io starò in fondo la reati Q ma siccome ciascuno dei processi prima di me al massimo aspetta un quanto Q io dovrò aspettare n-1 volte per Q e quindi il tempo d'attesa è limitato al numero di processi e alla durata del quanto vedete quindi che se io abbasso il quanto di tempo il quanto Q ridurrò il tempo d'attesa però presumibilmente pessimizza cioè renderò peggiore l'uso della CPU perché avrò più content switch e quindi più tempo impiegato per popolare le cache e mi si abbasserà anche il throughput ok un esempio di processo round robbing è quello che vedete in questa slide in cui assumiamo di avere un quanto Q di 4 pertiche di 4 unità e tutti i processi arrivano nell'ordine P1 P2 P3 ma tutti quanti partono da 0 banalmente il gioco è il seguente abbiamo un quanto Q di 4 unità all'inizio arriva P1 che vuole farsi un burst di 24 di 24 unità però P1 viene eseguito dal tempo 0 al tempo 4 dopo viene cacciato perché al tempo 4 chi è che entra? beh perché il quanto è di 4 al tempo 4 abbiamo P2 ma P1 viene messo in coda al tempo 4 abbiamo P2 P2 esegue per 3 unità quindi P2 è felice esegue per 3 unità vuol dire che non ha manco consumato tutto il suo quanto a un certo punto che faccio? sto lì a aspettare che lui il suo quanto lo butta? no appena P2 termina io passo subito la CPU al prossimo processo che sarà il processo P3 che esegue con gioia per 3 quanti e quindi arriviamo al tempo 10 poi ci ritroviamo che sia P2 sia P3 sono finiti e io mi ritroverò a eseguire P1 finché non è finito quindi 14 18 22 26 e 30 ogni volta entrerò in modalità kernel per accorgermi però che c'è solamente P1 in esecuzione uscirò subito e quindi P1 può terminare la sua la sua la sua la sua esecuzione ora considerazione su round robin da un punto di vista di uso delle risorse per processi non interattivi è meglio il round robin o è meglio lo shortage of first beh è meglio il turnaround è il numero di processi cioè il numero di processi no il throughput è il numero di processi in unità di tempo il turnaround è il tempo di esecuzione di un processo tipicamente lo shortage of first è meglio di questo perché non ci sono delle non ci sono delle latenze di content switch è perché il fatto di mettere prima i processi più corti e senza dover fare content switch ti comporta il fatto che in linea di massima finiranno prima però il round robin ha un miglior tempo di risposta perché i tempi di risposta sono quelle cose che caratterizzano l'interattività del processo c'è qualcosa che possiamo dire sugli scheduler preemptive la prima cosa che dobbiamo dire è che il tempo di quanto deve essere molto grande rispetto al tempo di content switch perché se il quanto mi dura 5 millisecondi e per fare un content switch io ci metto un millisecondo vuol dire che io sto sprecando un quinto del tempo a fare content switch quindi io sto buttando la CPU ok è per questo che di solito un content switch quindi con 10 microsecondi di solito è per questo che il tempo il quanto del tempo di uno schedula del preemptive è scelto tra i 10 e i 100 millisecondi a seconda della situazione scegliere un 100 millisecondi può avere senso nel caso in cui abbiate una macchina che deve fare dei calcoli pesanti e deve stare lì a smucinare per parecchio tempo perché a ripopolare le cache ci vuole il suo tempo ok quindi questo ci porta ad una ad una di contrasto scegliendo un quanto di tempo troppo grosso beh io ho un sistema che è più gommoso perché quando ho diverse applicazioni in esecuzione se voglio avere un sistema interattivo beh nel momento in cui premo un tasto dovrò aspettare che la mia applicazione venga riesumata dovrò aspettare che qualcosa accada da quel punto di vista prima che la mia cpu la mia applicazione prenda prenda la cpu e quindi se ho 5 processi a 100 millisecondi se non sono state operate delle scelte più intelligenti per esempio quella di mettere davanti un processo la cui io termina beh io dovrò aspettare magari 500 millisecondi quindi mezzo secondo si nota a fronte della pressione di un tasto ok per vedere gli effetti della pressione di un tasto allora la domanda nasce spontanea è data una macchina data un sistema come faccio a dimensionare il tempo di cpu il quanto di cpu perché io so che da una parte scegliere un quanto di cpu grande mi permette di avere meno content switch e quindi meno tempo per ripopolare le cache userò meglio la mia macchina d'altra parte scegliere un tempo di quanto piccolo mi dà un'impressione di reattività sulla macchina e quindi avrò l'impressione di avere un computer più veloce anche se così non è ok in linea di massima quello che si fa è si guarda all'uso che si fa di quella macchina cioè se io ho una macchina in una farm che è dedicata a delle compilazioni massive beh a me non me ne frega niente di avere dei quanti di tempo troppo troppo piccoli perché non è che c'è un utente che sta lì ad aspettare e si stanca in quel caso mi interessa pur avendo un multitrading multitasking e quant'altro perché potrò lanciare delle compilazioni parallele però a me mi interessa usare al meglio la cpu nel momento in cui una compilazione è partita e in questo caso mi converrà scegliere dei quanti di tempo grandi di converso se sto usando un'applicazione tipo un editor mi converrà avere dei quanti di tempo piccoli ok ma se uso una macchina general tour poi come faccio boh intanto vediamo assumiamo che una macchina sia deputata ad eseguire sempre la stessa applicazione n istanze della stessa applicazione beh in questo caso può avere senso di menzionare il mio quanto di tempo in maniera tale che sia più grosso del cpu burst perché se è più grosso del cpu burst vuol dire che pur mantenendo la possibilità di fare una una prelazione io comunque non avrò delle perdite di prestazioni dovute al content switch perché il content switch virtualmente non avverrà mai avverrà solamente in funzione della io invocato da quei processi però c'è non c'è ma non viene invocato normalmente quello che si considerando l'eterogeneità delle applicazioni che uno ha a disposizione quello che si fa è si sceglie un tempo di quanto che è l'80% tale per cui l'80% dei cpu burst siano più corti del quanto così nell'80% delle volte non viene cioè un processo decide di andare in io di uscire dalla cpu di sua sponte e il 20% delle volte ciccia almeno pagherò questo 20% comunque avendo un'impressione di reattività questa è una rule of time ok e quindi come vi ho anticipato fatemi vedere se ci stanno domande no no non ci stanno domande oh regà ogni tanto se vi servono domande postate io prima o poi le leggerò alla fine della puntata me le leggo tutte ok questa questa è una lezione rilassante dite la verità no niente formule niente programmi solo chiacchiere allora quello che posso fare nel momento in cui vado a dimensionare un sistema è quindi a scegliere il tipo di scheduler che avrò è quello di vedere come l'applicazione verrà usata come vi ho già detto prima e in funzione dell'uso di quella macchina potrò scegliere diversi parametri per lo scheduler per esempio se io userò quella macchina per editare per fare per gli utenti mi interesserà minimizzare il tempo di risposta mentre se io uso quella macchina come un cloud in un cloud center mi interesserà massimizzare il throughput quindi il numero di processi in un tanto tempo e quindi i soldi che io percepisco da chi affitta il tempo di computazione di quella macchina lo scheduler è quel pezzo di programma che è responsabile di ottimizzare i parametri per ogni applicazione un idea di base è quella di trattare le applicazioni in modo differente quindi di cercare osservando come si comportano a runtime le applicazioni di categorizzarle di dire ah questa applicazione qui mi sa che è un'applicazione interattiva piuttosto che questa qui è un'applicazione batch ovviamente questo lo fai facendola girare misurando quello che accade quando fai girare un'applicazione misurandolo riesci a farti un'idea se quel processo lì è un editor piuttosto che se quel processo lì è un compilatore ok e una volta che tu hai capito questo puoi prendere delle decisioni più ragionevoli puoi per esempio decidere di schedulare l'editor con un quanto di tempo più piccolo e schedulare magari su un'altra CPU il compilatore con un quanto di tempo più lungo ok l'idea è quella di trattare le applicazioni in modo diverso hence quindi viene fuori il concetto oramai anziano dell'avere non una sola coda di redi ma del partizionare la coda di redi in code di tipo diverso questa slide è copiata dal Silbershats questa figura dove ha un estremo diciamo ha fatto un prank agli studenti uno scherzo agli studenti perché ha messo i loro processi dopo i processi batch quindi meno della priorità al studente non c'è niente in realtà vi posso garantire che non è così l'idea comunque del multilevel dello scheduler a code multiple è quella di partizionare tutti i processi di redi e di metterli una partizione di un insieme è una divisione dell'insieme in sotto insiemi che non hanno niente in comune ma che tutti che uniti fanno l'insieme che hanno intersezione nulla tra di loro ma che uniti ridanno l'insieme di partenza di partizionare i processi in funzione della loro categoria di partizionare questi processi in diverse code di priorità dalla coda di priorità più alta alla coda di priorità più bassa e vengono eseguiti prima i processi di priorità più alta e va bene fino a qua non ci piove ok ciascuna di queste code poi può essere schedulata può avere al suo interno un meccanismo di selezione dei processi di avere un suo scheduler un suo proprio scheduler per esempio i processi ad alta priorità possono essere schedulati in round robin i processi a bassa priorità possono essere schedulati con uno first come first served oppure un shortage of first uno shortage of first approssimato o quant'altro ok quindi di avere una politica di scheduling diversa per ogni coda ok chiaramente questo comporta il fatto che se io ho dei processi ad alta priorità che mi chiedono tutta la cpu io non andrò mai ad eseguire i processi a bassa priorità tipicamente questa situazione si verifica in maniera rara perché i processi interattivi spesso sono caratterizzati dall'avere un uso della cpu esiguo cioè un editor non è che deve fare tutti questi conti e un editor è un esempio di un processo interattivo un editor deve lavorare solamente quando premi un tasto oppure quando chiami una sua funzione ma poi dopo si rimette subito a dormire quindi tutti i processi che sono diciamo ad alta priorità i processi interattivi eseguiranno dei burst che sono molto piccoli e alla fine molta cpu rimane a disposizione dei processi che stanno a livello più basso ok magari interactive process questo potrebbe essere un player video e questo è un editor ecco un player video esegue cose però poi si mette in attesa perché la cpu cioè perché deve stampare un frame ogni 30 millisecondi o quant'altro poi si mette a dormire cioè se voi playaste un video memorizzato su memoria a full speed lo vedete così perché c'è tanto tempo per la cpu per fare altre cose nel caso in cui non fosse così perché la codifica è particolarmente onerosa lo vedete che salta a frame ok vabbè poco conta l'idea è che l'idea di base di questa politica è quella che se cioè che le code ad alta priorità dopo aver eseguito i processi ad alta priorità c'è sempre abbastanza tempo per eseguire i processi a priorità inferiore se questa cosa qua non dovesse succedere che cos'è che si verifica? si verifica starvation perché se a un certo punto io ho un video player che mi intasa la cpu e che mi esegue tutto magari l'editor non funziona più ok e quindi io sono triste perché non posso più editare il mio programma mentre mi guardo Harry Potter come posso evitare questo comportamento? beh posso evitarlo decidendo a priori quindi avere una sorta di scheduler decidendo a priori che il 20% magari della cpu dando ai processi ad alta priorità una certa percentuale di cpu ai processi a media priorità un'altra percentuale un'altra percentuale un'altra percentuale ovviamente una percentuale decrescente chiaramente i processi ad alta priorità ci si aspetta che non eseguano tutto il loro quanto di cpu ma che ne lasciano un po' per i processi a più bassa priorità che poi se la redistribuiranno ok e come faccio ad implementare questo meccanismo ancora una volta lo posso fare perché io sono il padrone della timer interrupt non è che io ogni volta che parte la timer interrupt devo far girare la timer interrupt alla risoluzione del quanto la timer interrupt gira ad una risoluzione che è molto più alta del quanto ogni volta che mi arriva una timer interrupt io sono in una fase del sistema operativo in cui posso operare delle decisioni una di queste decisioni sarà per esempio adesso schedulo i processi nella quota di sotto ok chiaro questo quindi in questo modo con una preallocazione della cpu io posso garantire che anche i processi batch o i processi degli studenti siano eseguiti anche se sopra c'è una festa di processi ad alta priorità che stanno contendendosi la cpu quindi posso evitare starvation vediamo se ci sono domande ancora una volta non lo posso vedete uscita full screen mode non ci sono domande bene continuiamo dove stanno escape allora un altro modo di gestire le code a priorità multipla è usare la coda a multipli livelli di feedback ovvero dire sai che c'è un processo non è che nasce come system process o nasce come interactive process o nasce come interactive editing process un processo nasce come un processo e basta e magari quando nasce io lo sbatto dentro a questa coda poi in funzione del comportamento io lo promuoverò ad una coda più in alto oppure lo boccerò lo downgraderò ad una coda più in basso in funzione del suo comportamento quindi io ho una politica di promotion di incremento delle priorità e una politica di decremento delle priorità presumibilmente ciascuna di queste code sarà sempre meno reattiva e quindi avrà un quanto di tempo che sarà sempre più grosso anche se verrà eseguita avrà una possibilità una probabilità una probabilità una frequenza di esecuzione sempre cioè decrescente dall'alto verso il basso quello che posso fare è cercare di capire cos'è un processo come si comporta un processo perché spesso un processo si comporta in modi diversi durante la sua esecuzione per esempio immaginate quando state facendo l'editing di un'immagine state facendo un editing bene molte operazioni che fate sono velocissime poi a un certo punto fate partire su Gimp un filtro che ci mette 20 secondi e tutta un tratto Gimp che è un equivalente del programma commerciale Photoshop ci mette 20 secondi a fare quel processing e all'improvviso lui si tramuta da processo interattivo quale era a pieno titolo a processo batch ok quindi avrà senso magari da parte del sistema operativo in quel caso tanto se aspetti 20 secondi e non aspetti 21 poco cambia magari l'importante è che tu continui a sentirti i Deep Purple col tuo player MP3 che sta girando di lato conviene che tu demoti le Gimp a processo a più bassa priorità quindi come fai a promuovere o a bocciare un processo semplicemente analizzando l'uso che questo processo fa del suo quanto ed eventualmente misurandone la durata se un processo usa periodicamente meno del suo quanto che cosa vuol dire? vuol dire che lui merita una priorità più alta perché è un processo che è più interattivo molto spesso quel processo sta in IO e di conseguenza che cosa fai? lo prendi e lo fai salire nella lista di priorità di contrasto che cosa puoi fare se un processo tipo quando lanci il filtro lentezza su Gimp che cosa succede? succede che quel processo che all'inizio era interattivo incomincia a mangiarsi tutto il suo quanto e anche di più se lo mangia se lo mangia se lo mangia dice no tu caro processo vai a priorità più bassa dove si ritrova un quanto più alto ma viene eseguito meno volte ma lui anche lì continuerà a mangiarsi questo quanto tutto quanto e dice ah tu cane scendi di priorità e lo mandi sotto eccetera eccetera fino a un certo punto che il filtro sarà terminato Gimp ha finito di processare la tua immagine e eccolo lì che si ferma in IO fermandosi in IO succede che ogni volta il suo quanto rimarrà sempre sarà sempre estremamente corto rimane in IO per parecchio tempo e ogni volta sale fino a quando tu non non l'hai riportato tra i processi interattivi in questo modo hai adattato il comportamento della macchina e hai adattato il comportamento dei processi alle particolari applicazioni ragazzi queste cose le avevate già viste o no a sistemi di calcolo vediamo se mi rispondete le avete già viste queste cose a sistemi di calcolo o no tanto guarda chiude la finestra che qua c'è una bora che no le code multiple le avete già viste a sistemi di calcolo sto aspettando una risposta nella chat ok non ti ricordi di averli visti quindi assumo di no bene bene così mi dà un senso bene non le avete viste quindi è utile che li vediamo grazie ragazzi questa cosa qui vi fa rendere conto della latenza con la quale io percepisco le vostre risposte del così voi vedete è due volte il tempo di latenza che voi misurate quando quando io plotto le cose ok a questo punto abbiamo più o meno oggi quello che si fa al tempo d'oggi è fondamentalmente si usano quasi solo i multilevel feedback queue quindi questo è la famiglia di scheduler che viene usata oggi nei vari sistemi operativi con diverse politiche sono questi ok che cosa succede sulle moderne architetture multiprocessore praticamente tutti i computer che abbiamo oggi lo scheduling diventa un po' più complicato e quindi possiamo distinguere 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 diverse categorie il primo tipo è il caso in cui abbiamo processori omogenei quindi è il caso del vostro computer che avrà due, quattro, sei core insomma quelli che ha ok in questo modo in questo caso lo scheduler viene invocato nello stesso modo con le stesse condizioni alle stesse condizioni a cui vengono invocati veniva invocato prima con la differenza che ha la possibilità di scegliere non di uno ma di n processori quindi ogni volta che viene invocato lo scheduler lui si ritroverà ad avere un processore se c'è stato una IO allora lui sa che ha un processore libero e prende un processo da 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 e lo mette nel running del processore libero sulla base di determinate politiche mentre se se si rende conto che che ha che è terminato un quanto di tempo beh dovrà andare a vedere di quale processo è terminato il quanto di tempo cioè quale dei running ha consumato tutto il suo quanto di tempo quindi quando parte il timer andrà a vedere quale dei running ha consumato il quanto prenderà il running di quel processore lo sbatterà dentro la coda di di ready e poi preleverà il prossimo e lo metterà a quel processore a disposizione quindi possiamo estendere questo schema in maniera relativamente semplice semplicemente dicendo sai invece di avere solamente un running o n running un running a processore ogni volta che mi parte lo scheduler beh devo scegliere quale dei miei processori liberare dalla cpu a meno che il processo non l'abbia deciso lui facendo una richiesta di io in quel caso la scelta è univoca per fare questa scelta devo vedere quali dei processi che sta in esecuzione nei miei processori ha terminato il suo quanto nel caso in cui sia una timer interact e in questo caso lo prendo lo sbatto in coda e poi eseguo tutte le cose che abbiamo visto prima un problema classico che si ha nello sviluppo dei sistemi operativi è i primi linux era dovuto al fatto che solamente uno tra i core poteva accedere alle strutture date dati del kernel questo è un problema abbastanza delicato perché voi potete immaginare che il kernel viene chiamato tantissime volte durante la vita di un processo e avere un solo processore che esegue codice kernel può rappresentare un collo di bottiglia nel caso voi abbiate molti processori a disposizione d'altra parte avere un solo processore che per conto suo esegue codice kernel rende lo sviluppo del sistema molto più semplice perché essendo solo lui in grado di eseguire delle syscall o delle strutture date del kernel non ho dei problemi di consistenza non ho dei problemi di concorrenza e non devo mantenere delle strutture dati consistenti ok se io ho due processi che in parallelo provano ad eseguire una syscall beh io sto accedendo alla struttura dati kernel e quindi potrei automaticamente generare dei danni terribili se non faccio le cose a un modino ed è per questo però d'altra parte facendo garantendo ai sistemi operativi la possibilità di eseguire syscall in parallelo su più core io potenzialmente miglioro l'efficienza perché una syscall prima era una cosa bloccante quando entra la syscall entra la syscall e basta ok che cosa posso fare in questo caso posso farcire il mio sistema operativo di delle strutture dati come dei semafori o quant'altro in particolare lo trovate pieno di spinlock che garantiscono un accesso mutuamente esclusivo a delle porzioni di risorsa da parte di tutte le cpu che possono concorrentemente eseguire il codice del kernel e quello che avete oggi su praticamente tutti i sistemi è questo voi avete un multiprocessing simmetrico ok quindi smp quindi quando voi fate the message sulla vostra macchina andiamo di fare the message quando fate the message the message vi dice che il vostro kernel è un symmetric multiprocessing quello di message sono i messaggi del kernel ho fatto un grep di smp e lui mi dice che si questo kernel è in grado di eseguire syscall in parallelo su diversi processori un'altra cosa che è possibile fare dentro utilizzando delle utility che adesso non mi ricordo quali sono ma è possibile farlo è possibile lanciare un processo e dire a questo processo di essere eseguito su un particolare core su un solo core questa cosa qui può avere senso nel caso in cui quel processo sia CPU intensive e in cui voi sapete che le cache sono ci sono delle cache private per ogni processore per ogni core e in cui vogliate per esempio fare in modo che quel processo stia alloccato su quella CPU per esempio per minimizzare la possibilità di svuotare gli overhead di riempimento e svuotamento delle cache un'altra cosa quindi questa affinità che viene detto è un'altra feature è un altro cue un altro suggerimento che noi diamo al nostro scheduler nel caso in cui voglia prendere un processo in ready e metterlo in running possiamo dirgli guarda o preferibilmente eseguilo su questo core in questo caso se quel core è libero lo mette lì in caso contrario lo mette da qualche altra parte soft affinity oppure possiamo dirgli questo processo mettilo per forza su questo core e in questo caso se quel core non è libero non è libero il processo aspetta e aspetta che si liberi e poi quando si libera lo mette proprio su quel particolare core c'erano utili da linea di comando se voi cercate processore affinity linux troverete delle utili da linea di comando per divertirvi a lanciare dei processi con una particolare processore affinity e fare cose turche un'altra famiglia dai che ci sto un'altra famiglia oggi spiegone lungo mi dispiace un'altra famiglia di scheduler che incontreremo sono gli scheduler real time ora quindi ricapitolando abbiamo visto in questa puntata gli scheduler classici abbiamo visto cosa vuol dire scheduler devo fare un wrap up perché è troppo lungo cos'è uno scheduler e come viene come viene invocato abbiamo visto quando viene invocato uno scheduler abbiamo visto il ruolo del dispatcher che è quella cosa là che butta dentro alla CPU process butta fuori dalla CPU process e li mette dentro alla CPU abbiamo visto come caratterizzare un processo in termini di sequenza di CPU burst e IO burst abbiamo visto come caratterizzare un processo in termini statistici abbiamo caratterizzato i processi in termini delle cioè uno scheduler in termini un sistema in termini di delle metriche che valutano il comportamento dei processi su quel sistema che poi dipendono dallo scheduler di CPU abbiamo visto che alcune di queste metriche vogliamo minimizzare o massimizzare abbiamo visto come possiamo descrivere uno scheduler con quei diagrammi che abbiamo visto poi che vedremo estensivamente nelle esercitazioni abbiamo visto che il primo tipo di scheduler il più sciocco non preempile è il first come first serve e poi abbiamo visto che lo scheduler migliore tra gli scheduler batch dello scheduler non preempile è lo short job first che è la politica attraverso cui dovete fare tutti i compiti in classe tutti gli esami d'ora in poi visto che avete studiato i sistemi operativi per massimizzare il voto che prenderete quindi fare prima l'esercizio più facile abbiamo visto che lo short job first ha delle bellissime proprietà però che non si può implementare ma si può approssimare come si può approssimare guardando nel passato e prevedendo il burst futuro come una funzione tra la predizione e il burst precedente abbiamo introdotto lo scheduler di priorità che è un'estensione lo scheduler short job first abbiamo poi visto gli scheduler preemptive siamo arrivati alla scelta del quanto che è determinante per il comportamento degli scheduler preemptive quindi degli scheduler a quanto di tempo siamo interessati a scegliere un quanto di tempo che sia abbastanza grande da non creare inutili content switch e abbastanza piccolo da garantirmi che il computer venga usato al meglio abbiamo visto che le applicazioni spesso sono eterogene e quindi possiamo utilizzare delle politiche che rendano tutti felici dividendo la coda di priorità in più code di priorità ognuna gestita da uno scheduler diverso questo schema presuppone che la CPU sia che l'esecuzione di processi in code di priorità più alta lasci sempre comunque abbastanza tempo per i processi in code di priorità più bassa da essere eseguito se così non dovesse essere noi possiamo implementare un meccanismo di pre-scheduling che garantisca anche alle code a bassa priorità una parte del tempo di CPU poi abbiamo anche visto che invece di farli nascere in una coda i processi possiamo spostarli linealmente tra l'una e l'altra giocando con le priorità poi abbiamo visto i moderni computer queste macchine moderne abbiamo chiacchierato di come è possibile estendere uno scheduler banalmente a utilizzare più CPU e questo si ha semplicemente replicando la lista di processi in running in quel caso ogni volta che un processo termina oppure viene chiamata la CPU noi dobbiamo vedere quale CPU si è liberata e metterci dentro il processo abbiamo visto che il kernel può essere eseguito in due modi in modo asimmetrico e in modo simmetrico in modo asimmetrico è più facile da implementare perché non devo preoccuparmi di tenere le strutture dati in ordine della concorrenza e della consistenza delle strutture dati perché c'è solo una CPU che può entrarci in modo simmetrico invece dovrò farcire il mio kernel di semafori e di spinlock per garantirmi che le strutture dati rimangano consistenti poi abbiamo visto anche che un altro cue che possiamo dare alla mia macchina è la processore Affinity dicendo che voglio che un certo processo venga eseguito solo su quel core un aspetto che forse non vi ho completato della processore Affinity è che questo può avere senso su alcuni telefonini Android che sono equipaggiati con un'architettura ARM di tipo Big Little in cui avete che ne so 4 core ARM potenti che consumano un botto e 4 core ARM tristi che consumano meno ma che sono anche meno performanti magari ci sono delle istruzioni speciali che la vostra applicazione deve eseguire che se eseguiti da dei processori tristi comportano l'attivazione di determinate emulazioni e quindi quando lanciate un'applicazione scritta in maniera nativa non scritta con dei linguaggi interpretati su queste macchine volete fare in modo che la vostra applicazione nativa venga eseguita sulla CPU potente in quel caso potete dire guarda fai girare questa cosa sul core numero 3 perché il core numero 6 è puzzo ok queste sono le cose che abbiamo visto dello scheduling è talmente lunga la lezione che devo fare il brappato vediamo gli ultimi pezzettini dai che ci siamo quasi l'ultimo pezzettino gli ultimi pezzettini di questa versione sono gli scheduler real spine quindi cambiamo classe siamo passati dai computer grandi di una volta che occupavano stanze in cui uno ci mandava le schede perforate erano i sistemi non preemptive ai comodi desktop degli anni 90 e 2000 con tanto di raggio di tubo a raggi catodici nel quale la persona lanciava i sistemi concorrenti e adesso andiamo a finire dentro le automobili dentro alle ci sono tutta una serie di dispositivi real time che fanno sì che noi diciamo guidiamo con sicurezza oppure sistemi di controllo di dispositivi tipo anche ascensori o tipo centraline di automobili eccetera eccetera questi sistemi qua queste macchine qua sono caratterizzate dall'eseguire un insieme di task eventualmente complesso però il task è complesso e articolato però ciascuno di questi task tipicamente è relativamente semplice una cosa fondamentale che si richiede a queste macchine a questi task è di eseguire dei task entro un tempo ben definito pensate alla centralina della vostra automobile che deve comandare quando si apre una determinata valvola oppure quando aprire un iniettore di un motore diesel e via discorrendo bene queste informazioni qui devono essere devono giungere a termine questi compiti devono giungere a termine secondo delle tempistiche ben precise ok questo è un esempio un esempio un po' quindi il task apri iniettore oppure il task controlla motore dovrà essere un task ciclico che dovrà essere eseguito magari ad una velocità che dipende o dal numero di giri del motore oppure eventualmente una velocità fissa ma dovrà essere eseguito periodicamente e con dei time bound ben precisi un altro esempio è l'esempio voi avete fatto controlli automatici immagino un altro esempio è quando voi quella roba lì che avete studiato a controlli automatici la implementate veramente per esempio per controllare un robot per controllare un robot voi tipicamente dovete controllare dei motori di questo robot i motori di questa macchina bene i motori si controllano su una base dei tempi ben specifica cioè come lo modelli un motore un motore è un input al quale mandi una tensione e dal quale periodicamente puoi leggere una velocità ora è molto ragionevole che quando tu calcoli Tari il tuo controllore che altro non è che una funzione di la plate una funzione di trasmissione ovvero anche una funzione di trasmissione a tempo discreto quindi con la trasformata Z tu prendi questo controllore dovrai leggere un input calcolare un valore e mandarlo in output questo è quello che devi fare ma lo devi fare periodicamente e lo devi fare periodicamente con un periodo di tempo ben specifico ok magari la vostra trasmacchina fa anche tante altre cose nel frattempo immaginiamo anche il sistema di controllo di un aereo oggi sono disaccoppiati però nel caso in cui pensate a un sistema di controllo dell'aereo quello che deve controllare sì gli alettoni i flap dell'aereo ma magari controlla anche i multimedi all'interno dell'aereo non è così sono dei sistemi separati però nel caso in cui una persona particolarmente tirchia volesse unificarli in un unico computer bene questo unico computer si dovrebbe gestire dei task ben specifici che hanno delle deadline ben specifiche questi task sono dei task che ben questi task importanti quindi controlla i flap non fai vedere cinema sono dei task che vengono chiamati hard real time i task hard real time vuol dire che se non servi questo task entro il tempo che ho stabilito succedono delle catastrofi ok questi sono i sistemi hard real time e sono caratterizzati i task i processi all'interno di un sistema real time sono caratterizzati da due cose uno da un periodo quindi un task real time come un sistema di controllo avrà un periodo al quale viene eseguito durante il quale viene invocato quindi sono dei processi ciclici che ogni volta fanno più o meno le stesse cose e ogni volta che fanno queste cose ogni volta che si risvegliano vengono risvegliati queste cose devono essere servite entro un certo tempo questo tempo devono essere fatte entro un certo tempo questo tempo è la deadline ok in un sistema real time che tipicamente vanno ad alta frequenza ci sono due aspetti che interessano sono due latenze che diventano rilevanti in questi contesti la latenza di interrupt e la latenza di dispatch in un sistema operativo normale desktop queste cose qui sono negligible in un sistema hard real time possono essere importanti perché magari tu devi girare a 10 kHz e quindi un tempo un interrupt latency che magari è del microsecondo ti incomincia a pesare ok che cosa succede in un tempo in un processo real time bene succede che si verifica un evento per esempio un timer interrupt ovvero anche è stato è scattato determinato sensore parte l'interruzione e a questo punto tu hai devi dovrai risolvere eventualmente dei conflitti sulle interruzioni e dovrai fare un dispatch dovrai attivare il processo deputato a gestire quell'evento e a quel punto parte l'esecuzione del processo l'esecuzione di questo processo ci metterà un certo tempo il tempo che intercorre tra il verificarsi dell'evento e la sua diciamo gestione viene chiamato tempo intervallo di risposta possiamo quindi caratterizzare quindi un processo real time è caratterizzato sicuramente da un tempo di risposta il tempo di risposta può essere raggiunto in ogni caso magari qui in mezzo durante l'esecuzione di questo processo real time può arrivare un altro processo real time in mezzo perché magari un altro evento più ad alta priorità può essere eseguito e lì avrò comunque il tempo di dispatch che poi si accumulerà al mio dispatch ok quello che però io dovrò garantire è che il tempo di risposta per questo evento sia minore del tempo di risposta nominale che io ho garantito come caratterizzo i processi real time li caratterizzo da un periodo tipicamente perché sono eseguiti a tempi a intervalli costanti e la cosa più importante è la deadline a partire da quando il mio processo viene lanciato io ho un tempo massimo dentro il quale il mio processo deve terminare il mio processo deve stare dentro la deadline ok chiaro questo ok io quindi quando vado a costruire uno scheduler real time mi ritrovo in una situazione che da una parte è è bella perché io già so quali processi gireranno su quella macchina è una macchina real time è una centralina io so quali processi girano linux per esempio ha un'estensione ha un'estensione real time che però non è di default sui kernel che però opera per conto suo cioè è proprio un altro pezzo è un pezzo che deve deve girare quando gira lui anche il kernel è fermo o normalmente si usano sistemi operativi ad hoc fatti per per gestire questo tipo di cose e è caratterizzato quindi ciascuno di questi processi è caratterizzato da un periodo e da una deadline voi sapete a priori quanti e quali processi gireranno su quella macchina e poi sono processi molto ben caratterizzati e quindi voi a priori prima di metterli sulla centralina voi sapete quanto ci mettono ad eseguire di conseguenza molto spesso nei sistemi hard real time voi lo scheduling lo fate a priori cioè tramite degli strumenti automatici voi potete stabilire uno scheduling quindi un ordinamento di questi processi prima che questi vengano lanciati perché tanto sempre quelli sono e voi sapete quanto tempo ci mettono ok però nel formulare tra virgolette questo problema voi quello che dovete fare è un test di schedulabilità quindi voi avete un insieme di processi e per ciascuno di questi processi voi avete un periodo e avete una deadline ok e avete anche chiaramente un tempo di esecuzione voi quello che dovete vedere è se i processi sono schedulabili quindi se avete abbastanza CPU per eseguire i processi ok e di conseguenza dovete calcolare il tempo totale di CPU eseguito da una run di questi processi se questo tempo totale è ammissibile allora i processi sono schedulabili ok come possiamo fare ok e questo chiude fondamentalmente la puntata degli scheduler real time ok l'animazione di scheduler real time uno li fa una volta che va in production li fa offline tu sai esattamente quello che la tua macchina farà in quel contesto eventualmente ci potrà essere nel tempo spurio nel tempo che non è utilizzato della CPU per eseguire questi task real time tu potrai fare degli altri task soft real time che se prelazionati non determineranno nessun problema al tuo aereo plano ok ora dai che siamo ce la possiamo fare ragazzi siete vivi io comincio a essere stanco ma voi siete vivi sono una marea di ore di lezioni allora vai che sulla quinta ora e mezza comincia a c'è valutiamo uno scheduler quindi a questo punto abbiamo ricapito abbiamo presentato gli scheduler presentato un sacco di roba a questo punto ci troviamo nella situazione di scegliere di definire quale scheduler scegliere come possiamo fare possiamo fare in diversi modi vi parlo prima del modo standard quello che poi con il quale farete gli esercizi e poi vediamo il modo con le code il modo standard è quello di considerare una traccia di esecuzione di processi una traccia di esecuzione di processi viene definita proprio come una sequenza di p1 ha un cpuburst di 10 poi ha un ioburst di 20 poi ha un cpuburst di 5 e via discorrendo quindi per ogni processo tu hai una lista di quello che farà e che cosa fai prendi e lo simuli lo simuli insieme a tutti gli altri processi in funzione simulandolo in funzione del determinato scheduler che hai ok questo tipo di esercizi mi permette di capire se avete studiato o meno perché si tratta solo di studiarli non vanno capiti gli scheduler sono talmente semplici queste politiche che insomma non c'è niente di magico dietro mi permette di capire se avete studiato uno scheduler piuttosto che un altro per esempio se noi vogliamo fare facciamo simuliamo gli scheduler quindi li simuliamo ottenendo una traccia di esecuzione di processi come questa una traccia di esecuzione quello che succede dentro la cpu qua dentro questo qua è la storia e questo qui è quello che succede dentro la cpu una volta che noi abbiamo questa carta qua questa lista qua noi possiamo determinare tutte le quantità che ci interessano prima per esempio se consideriamo 5 processi che arrivano al tempo 0 in questa forma p1, p2, p3, p4 e p5 noi possiamo vedere come si comportano all'interno della cpu quindi se abbiamo un fc, fs noi vediamo che p1 parte va da 0 al tempo 10 poi parte p2 va da 10 a 39 quindi questo mi fa già intuire che p2 abbiamo un burst di 19 vediamo se è vero no scusa di 29 poi parte p3 che va da 39 a 42 quindi basta i 3, p4 e p5 sulla base di questo io posso calcolare di questa istanza io posso calcolare il tempo di round trip time il tempo di di turnaround posso calcolare quello che voglio ok vediamo di simulare la stessa traccia di processi con uno short job first e possiamo calcolare il waiting time per esempio e vediamo che prima viene p3 perché è quello più corto poi è p4 p1 p5 e p2 e possiamo calcolare i 15.000 secondi a sto punto possiamo metterci un round robin e misurare sempre il waiting time e qui scopriamo quanto ci mette quindi quanto ciascun processo aspetto nella coda di redi senza essere eseguito ok e viene fuori un altro numero questa è la deterministic evaluation e è quello su cui noi faremo fondamentalmente gli esercizi durante l'esame ok questo è un modo un altro modo di lavorare con i con i di caratterizzare la qualità degli scheduler è tramite simulazioni che è la cosa che vorrei farvi vedere se ho tempo nella rimanenza di questa lezione se ho tempo e testa perché 5 ore di lezione anche se sto a sentire Luca ne provano immagino voi è quello di fare delle simulazioni quindi che cosa facciamo possiamo generare delle tracce di esecuzione di processi a partire dal loro modello statistico il modello statistico è il modello dei burst quindi tu prendi uno schermo prendi un programma prendi una cpu un sistema operativo strumenti un attimo il suo scheduler in maniera tale che generi delle statistiche sui cpu burst di ciascun processo che arriva a quel punto hai delle statistiche prendi queste statistiche e le tiri fuori sono degli histogrammi e hai le statistiche di ciascun processo voi dovete sapere che a partire da un histogramma io posso generare una realizzazione del processo quindi vuol dire che posso generare una traccia di un processo quindi più uno running di tre quanti poi hai un bust di tre più hai più si più bust di cinque e via discorrendo la cui statistica è conforme all'istogramma che tu gli hai dato ok quindi ti do un histogramma e tu mi generi una traccia un'esecuzione di questa statistica che è conforme al che sulla quale se ci ricalcolo l'istogramma mi è più o meno lo stesso ok quindi hai un insieme di statistiche di questi programmi hai un modo di produrre tra virgolette delle tracce a partire dalle statistiche di questi programmi bene e che ci fai con queste tracce bene ci fai una simulazione ci fai una simulazione dello stesso tipo che facevi prima che è questa ok la puoi fare perché hai una traccia concreta e quindi puoi metterli insieme e farli girare dentro a un dentro a un simulatore una volta che tu hai fatto girare questi processi dentro a un simulatore un simulatore non di kernel un simulatore proprio solamente dello scheduler bene puoi tirare fuori tutte le metriche che vuoi e è una cosa è la cosa che oggi si fa diciamo per la maggiore perché ti permette di fare di modellare dei fenomeni in maniera abbastanza accurata e perché abbiamo computazione da vendere fondamentalmente per fare questo tipo di cose una volta che tu hai la traccia di esecuzione di processi quindi hai questa cosa qua quindi quello che succede nella CPU o nelle CPU beh allora puoi tirare fuori tutte le metriche che vuoi quindi quello che si fa oggi è si parte da una statistica dei CPU basta di un processo a partire dalla statistica si genera una traccia del processo che è una lista di CPU basta io basta io basta e via discorrendo che è conforme alla statistica data si fa per ciascuno dei processi poi si prendono tutte queste tracce di esecuzione che sono delle realizzazioni del processo aleatorio indotto dalla statistica si sbattono dentro a un simulatore nel simulatore voi ovviamente ci potrai mettere lo scheduler che vuoi ci puoi mettere FCFS short job first round robin quello che ti vale anche smucinare il quanto del round robin e misurare tutte le caratteristiche che tu puoi misurare ok e ora vediamo un esempio di un programma che vi ho fatto perché tutta questa bella chiacchierata qualcosa deve volgere di un programma che vi ho fatto che fa da simulatore ok siete ancora vivi ragazzi oppure siete cotti allora il simulatore sta qua eccolo qua allora vediamo un po' prima di partire dal simulatore si trova dentro la cartella CPU scheduling della vostra del vostro repository e vediamo un po' che cos'è che prende in pasto questo simulatore ok lui prenderà in pasto dei file di questo tipo qui c'è un processo process che ha un PID 1 e parte al tempo 0 la prima cosa che fa è si fa un bel CPU burst di una pertica poi si fa un IO burst di 30 pertiche poi si fa un CPU burst di una pertica un IO burst di 30 pertiche CPU burst D1 IO burst di 30 e via discorre poi ovviamente non è che io lo devo fare per forza D1 posso pure farlo D2 o D7 posso farlo come mi pare però questo qui mi caratterizza un processo ok ugualmente avrò un processo P2 e qua ho P2 no ok sono dei file di testo che mi descrivono i processi immaginate che questi file di testo partono a fronte di una statistica degli IO e di una statistica della durata degli IO e di una statistica della durata dei CPU parsed di un determinato processo ok chiaro bene quindi abbiamo una carrettata destra boh abbiamo una carrettata di questi file bene io per eseguire per vedere quello che succede ho fatto un programma che si chiama scedsim che ha un nome stranissimo non immaginatevi quello che fa a cui gli da impasto dei processi quindi se faccio scedsim example p star dot txt poi con less vedo quello che succede mentre eseguo questi programmi quindi tecnicamente quello che questo programma fa è in funzione dello scheduler che ho dentro lui e della traccia di esecuzione dei processi lui mi mostrerà l'evoluzione della cpu quindi dice al tempo 0 beh il tempo 0 è il tempo in cui tutti partono nessuno sta a partire perché sta a partire il sistema quindi è arrivato il processo 1 è arrivato il processo 3 è arrivato il processo 4 poi al tempo 1 siccome è arrivato al tempo 1 che succede? arriva il processo 2 perché io sono convinto che nella traccia di esecuzione dei processi c'era scritto che il processo 2 parte al tempo 1 ok però io ho questi 3 processi che erano in esecuzione quindi mi parte il pid 1 mi parte il pid 1 ma siccome il processo 1 se mi ricordo bene vediamo un po' di aprirlo qua no p1 yes ok qua apriamo tutti e 3 p1 p2 p2 p4 no p2 p3 p4 ma riusciamo tutti devo centrare sono delicatissime queste macchine moderne c'è un millimetro per spostare le finestre un orafo bene qui abbiamo quello che fanno i vari processi adesso questo lo piccolo dai piccolato ti ho piccolato sì quindi qui vediamo quello che fanno i miei processi e qui vediamo quello che mi dice lo scheduler allora il processo 3 arriva al tempo 0 il processo 4 arriva al tempo 0 questo sarà il processo 1 che però lo largo largalo un altro po' quindi è arrivato 1 è arrivato 3 è arrivato questo entrano qua dentro qua sono arrivati 1, 3, 4 felici poi mi arriva al 2 ecco qua arriva al 2 è il tempo 1 il quanto di tempo non mi ricordo se era D5 o D4 adesso lo scoprirò però ho paura di muovere l'editor questo qui credo che sia un round robin lo scheduler che ho implementato qui quello che succede è che viene eseguito il processo 1 perché questa qui la mia la mia reddq aveva 1, 3, 4 quindi viene eseguito il processo 1 il processo 1 però dura solo un quanto di CPU burst e quindi finisce il suo burst lui si è sposta in waiting a questo punto chi è il prossimo a essere eseguito stama 3 3 entra il 3 il processo 3 però che è questo cioè uno splendido CPU burst di 3 pertiche quindi io mi aspetto che 3 rimanga in ciccia per 3 giri e è quello che succederà infatti al tempo 2 gira 3 al tempo cioè al tempo 3 gira ancora 3 poi al tempo 3 gira ancora 3 e poi finisce 3 perché finisce il suo quanto di CPU credo che il quanto di CPU che ho scelto qui sia tipo 5 ok dopo 3 chi è che me che me che me mi ha trovato dopo 3 credo che venga 4 sì dopo 3 arriva 4 eccolo qua e mi parte 4 per 3 quanti ancora una volta sono felice a un certo punto vedo di cercare l'end burst di 4 poi a un certo punto è il tempo del PID 1 è il tempo del PID 2 eccolo qua questo è il processo 2 il processo 2 maledetto incomincia con un CPU burst di 10 avendo definito il mio quanto a 5 io mi aspetto che dopo 5 pertiche il processo 2 che sta qua running PID 2 eccolo qua running PID 2 running PID 2 running PID 2 ecco qua e dice and bust non mi dice and faccio una io mi dice a te Nino te butto fuori perché tu hai finito il tuo bust ragazzo quindi sposta butta fuori CPU dopo 5 P2 dopo 5 tempi dalla CPU e lo rimette in ready ok e via discorrendo ok alla fine questa quella cosa che leggete qui altro non è che la traccia di esecuzione di questo insieme di processi ok ora vi anticipo che delle tesine classiche di sistemi operativi del passato erano di modificare questo simulatore per fare un symmetric multi processing e per implementare diverse politiche di scheduling anche implementando però la generazione del della traccia di processi a partire della statistica e quindi fai tutta la storia di del è la grande epopea dei CPU scheduler ok dici come fai a modificare questo programma ci lo racconti questo come funziona questo programma e la risposta è volete che ve lo racconti o siete ancora vivi oppure siete morti come sono morto io questo è un invito a farvi dire di no ragazzi oggettivamente credo di non farcela in 13 minuti a raccontarvi come funziona questo programma quindi se volete al volo apro un meet e facciamo una question session altrimenti ci vediamo martedì prossimo dove faremo fondamentalmente la discussione di questo programma e solo esercizi esercizi sullo scheduling ed esercizi su e gli esercizi proposti le altre volte domande? vabbè giustamente c'è la sacra latenza so il 48 io sono cotto 5 ore a me mi friggono non so voi sì siamo più bravi siamo più freschi tutti bene ragazzi allora è una pessima giornata fuori il tempo è nuvoloso ma io vi auguro comunque un buon fine settimana e se volete se avete tempo date un'occhiata al cpu scheduler perché può essere di se vi va se proprio non ci avete assolutamente nient'altro di meglio da fare ok bella ciao fine del sacro streaming end streaming end streaming